Carabinieri e polizia locale sono intervenuti ieri poveriggio nel centro di accoglienza di migranti in via Cusmano, nel quartiere Regina Pagis, alla periferia di Giarre. In seguito ad una piccola sommossa, i fatti si sono verificati per strada attorno alle 18, davanti alla struttura che ospita circa un centinaio di persone, in attesa del rilascio della documentazione da parte della prefettura di Catania. Ieri non sono mancate le tensioni, l'arrivo dei carabinieri ha evitato che la furibonda lite potesse degenerare ulteriormente. L'ite durante la quale un giovane migrante è rimasto anche ferito. Nell'immediatezza dei fatti è giunta anche un'ambulanza del 118 che ha prestato i soccorsi. Il migrante è rimasto leggermente ferito precauzionalmente, è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Aciriale. Sul posto si è ricato anche il capitano Luca Leccese, comandante della compagnia di Giarre, unitamente a personale del nucleo operativo. La situazione è tenuta poi sotto controllo, è tornata alla normalità in tarda serata e l'allarme quindi è poi rientrato.